Tutto è iniziato da qui e dalla mia casa. Ho voluto creare un metodo che potesse aiutare chi vuole reinventare i propri ambienti senza dover necessariamente disegnare, riconoscendo i propri colori, gli abbinamenti giusti, gli stili di riferimento e le tecniche di arredo e decoro per poter leggere gli spazi e trasformarli proprio a proprio piacimento. E così è nato il metodo intuitivo. E credo fermamente nella creatività racchiusa all'interno di ogni persona e nella possibilità di applicarla al mondo casa. Ho preso in prestito le classiche tecniche shabby e le ho rivisitate in chiave più contemporanea per rinnovare gli ambienti e declinarle in varie linee stilistiche. Lo stile che ne è nato è stato definito da Leonardo Casestili di Sky la versione moderna dello shabby chic, dove classico, moderno ed elementi di recupero si fondono per dare vita ad una nuova armonia spaziale fatta di riordino, colore e nuova disposizione. Ho deciso di unire la mia professione di architetto rispolverando la creatività manuale che con la professione avevo un po' perso. Ho sviluppato Home Decor, una piattaforma virtuale molto completa sia dal punto di vista per teoria che dal punto di vista della pratica che aiuta ad imparare a distanza le tecniche e i metodi per trasformare ambienti, mobili e complementi. Scoprendo poi la mia propensione verso la formazione e la crescita personale ho capito che per poterla far diventare una professione oltre che la conoscenza delle tecniche pratiche e teoriche era necessario imparare a comunicare, acquisire maggior sicurezza in me stessa oltre che dimestichezza con gli strumenti tecnologici che ci aiutano a promuoverci. La voglia di cambiamento poi ha fatto il resto. Qualche anno fa ho cercato e trovato un riscatto lavorativo professionale e personale. Mi sono reinventata partendo proprio dalla mia casa e da allora ho individuato con chiarezza il mio nuovo scopo aiutare altre donne che desiderano vivere nell'ambiente dei loro sogni liberando la creatività per metterla a disposizione di altri e trasformarla in una bellissima professione. Se anche tu hai voglia di realizzare il tuo sogno nel cassetto ma non sai da che parte cominciare scarica i tre videocorsi gratuiti vai sul mio sito creazionedatmosfere.com e scopri la formazione online. Quindi riparti dalla tua passione. Grazie a tutti.